Si parla di X-Factor perché gli Onvisit hanno riservato tante sorprese al pubblico del programma in onda su Sky che ogni anno sforna talenti della musica. Dovendo fare delle scelte obbligate, uno dei giudici ha però deciso di eliminare una concorrente che piaceva moltissimo. Manuel Agnelli ha infatti escluso Beatrice Fita dalla corsa ai live show, ma c'è stato però un risvolto inatteso in questo colpo di scena. Andiamo con ordine. Il giudice ha formato la sua squadra per i live, ci sono i Pancake, Mimi Caruso e Daniele Gasperini. Beatrice, che aveva impressionato alle audizioni, è rimasta fuori per la sua scarsa presenza scenica. Agnelli ha sottolineato che, sebbene la cantante abbia un grande potenziale, è necessario un lavoro sul palco per riuscire a trasmettere intensità in modo più coinvolgente. Un conto è essere qua e un conto è uscire dallo schermo. Su questo dovremo lavorare, ha affermato il giudice protagonista di Decimo Factor insieme ad Achille Lauro, Jack La Furia e Paola Iezzi. Ma dopo l'eliminazione, per Beatrice è arrivata una opportunità speciale. Vorrei che tu venissi a suonare nel mio locale, gli ha detto Manuel Agnelli lasciandola emozionata e in lacrime. Dunque nonostante l'esclusione dai live, Agnelli ha offerto a Beatrice la possibilità di crescere artisticamente con lui. Hai vent'anni, hai un sacco di tempo davanti. Vorrei che tu venissi a suonare nel mio locale, così ti fai un po' di esperienze e maturi come artista, ha aggiunto dimostrando di voler sostenere il talento di Beatrice anche fuori dal talent show, facendo sperare la ragazza in una carriera musicale promettente. E voi cosa ne pensate?